Per quanto riguarda la mia posizione, io penso che ci sarò. Adesso stiamo valutando la lista insieme al sindaco e insieme a tutti gli altri, perché come sai sono diminuiti anche i consiglieri che dovranno candidarsi, quindi dobbiamo fare un resoconto perché comunque saremo qualcuno in più e devono entrare delle donne. Quindi stiamo valutando seneramente questa cosa. Io per quanto mi riguarda credo in Filuccio D'Ancredi e credo nell'operato che ha fatto questa amministrazione perché si sono fatti tanti lavori e in un momento comunque di crisi profonda dove lo Stato ci ha tagliato oltre 2 milioni di euro e dove sappiamo tutti che c'è stata una crisi mondiale, europea e nazionale sia nel lavoro sia nell'economia. Quindi non è una questione comunale ma è una questione nazionale. Per quanto riguarda il Big Bang che è stato nominato in questi giorni, il Big Bang non è niente altro che un'associazione nata a sostegno di Renzi, di tutti i comitati Renzi e in effetti con questo Big Bang della provincia di Avellino è stato organizzato per unire tutti i comitati della varia provincia di tutta la provincia di Avellino e Campana per portare idee e per sottoporle comunque a Renzi. Si vocifera di tante persone del PD dovrebbero rientrare nella lista di D'Ancredi, Caterina Lengua, Anna Marro, Stefano D'Angredi. Ci può un pochino far capire se corrisponde al vero, se c'è qualche trattativa sotterranea, se alla fine il PD farà una lista col centro-sinistra? Siccome il consigliere romano è del PD quindi è più aggiornato di noi. Allora io già nel passato avevo detto che comunque a Cervinare il PD non mi piaceva come era stato strutturato e infatti si vede negli ultimi eventi che comunque qualcosa non va nel PD. Per quanto riguarda la lista io parto sempre da un concetto, siccome viviamo in un paese di circa 10.000 anime io non ne faccio una questione di partito, una questione di centro-destra, di centro-sinistra. Io penso che nei paesi devono essere composte liste civiche e trovare le persone giuste, le persone che vogliono dare una mano al paese, che vogliono lavorare, che vogliono dare idee e che non devono distruggere. E queste persone possono essere di varie aree, di centro-destra, di centro-destra, di centro-sinistra. A me non mi riguarda questo. L'importante è che sono persone per bene che hanno la capacità, la volontà e la voglia di dare veramente una mano al paese perché è facile criticare. E noi siamo da cinque anni, pure io chissà quante cose avrei voluto fare, ma purtroppo la burocrazia, la crisi, lo Stato, non si cammina. Cioè è una cosa, l'Italia non funziona niente, non funziona niente. Per fare solo la zona rossa, noi siamo partiti a ottobre del 2010, oggi siamo a marzo del 2015, dopo che siamo andati oltre 300 volte a Roma, 300 volte a Caserta, abbiamo spinto, abbiamo fatto. Comunque la burocrazia si ferma, stanno queste carte ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri che deve essere apportata una sola firma e ancora non l'abbiamo. Quindi questo vi fa capire che con tutta la buona volontà, se ci sta la buona volontà, c'è la forza, se c'è la caparbietà, forse si può ottenere qualcosa. E questo abbiamo bisogno di noi, di queste persone che ci aiutano, in tutti e per tutto, e che non c'è bisogno di avere un colore politico. Per me, essendo una lista civica, possono entrare tutte le persone che hanno queste caratteristiche.